amici stavo carezzando a Epi non mi sono accorta che è partito il video fai vedere il tuo musetto con il tuo bel nasino lui è Epi è il mio cagnolone che arriva da un sequestro di i puccioli dall'est quella traffico terribile orrendo che cerchiamo di combattere e vabbè insomma prima o poi vinceremo anche questo eh Polino amici voglio cosa c'è cosa c'è eh sì la mamma sta parlando con i suoi amici e non va bene vuoi tutte le coccole tu e vieni su allora fatti vedere come sei bellino la mamma sta parlando è impegnata no 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 lasciatemi stare aiuto no 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 lasciatemi concentrare Carlotta ti vuoi far vedere anche tu no dopo se intervenite tutti e poi va bene grazie di questi baci selvaggi grazie Carlotta ecco però la mamma sta parlando con i suoi amici lì silenzio zitti qui va bene la democrazia ma se non fate un po' di silenzio io non riesco a concentrarmi cos'hai da dire tu che sei un pettegolo dai fatti vedere va fatti vedere fatti vedere ecco il mio lachino eh il cane più randagio d'italia cosa vuoi tu ma allora scusate amici volevo fare un discorso serio ma qua è praticamente impossibile che c'è Goldi eh e tu cosa vuoi Alissa no no basta allora adesso vi mettete tutti seduti Goldi tu sei la più seria in questo momento vi mettete tutti lì buoni zitti e mi lasciate parlare no basta basta cittetta ma vedete che a casa mia quando cominciano così no Carlotta ti risultavo lo cadono i telefoni basta oh lachizzito ma sei un pettegolo ma perché parli e cos'è che non ti va bene e basta vabbè adesso smetto ma è però io so che tutti voi avete gli animali e sapete che se avete più di un cane o anche un cane solo quando comincia a bagliare ok profittiamo di questo momento di silenzio volevo parlarvi di questo amici mi sono veramente rotta le scatole che le adozioni siano bloccate ho appena terminato di fare le assemblee con i meravigliosi presidenti di lei da di tutta Italia del nord del centro e del sud e il problema è che le adozioni siano bloccate e che quindi le staffette non possano partire e che quindi ci siano cagnolini già adottati cuccioli già adottati dal sud Italia che non riescono a salire al nord Italia ormai hanno quattro mesi e il problema che non si capisce perché la gente non possa adottare gli animali ora mentre i canili scoppiano ed è un'emergenza sociale è un qualcosa che deve essere risolto basta perché qui si parla di fase 2 si vanno a riaprire tante attività io non sono uno scienziato e quindi non mi permetto di dire se questo sia giusto o sbagliato mi auguro solo che il contagio però non riparta perché chiudere l'Italia per la seconda volta dopo averla riaperta sarebbe una cosa davvero grave e davvero di difficile gestione se non impossibile quindi mi auguro che non succeda poi come è successo già in altre realtà che il contagio è ripartito perché se no allora non ce la caveremo più però in questa disciplina di in cui dobbiamo districarci perché in abbiamo una normativa nazionale che il governo di solito ci regala con una diretta magari su facebook il venerdì sera come regalino per l'weekend e poi dopo non si capisce bene cosa c'è dentro cosa no e passiamo tre quattro giorni a interrogarci poi ci sono ordinanze regionali che contrastano e con il governo nazionale e tra di loro e quindi insomma uno ha veramente grosse difficoltà a capire cosa può fare e cosa non può fare e diciamo che se ce li abbiamo noi che siamo addetti ai lavori immaginiamoci i cittadini ora dopo di che però in tutto questa declinazione di nuove aperture non si possono non considerare le adozioni i canili scoppiano i gattili scoppiano il tema sociale del randogismo è esploso perché quando ovviamente vi è un disagio sociale questo si riflette ancora di più nelle zone dove meno risorse ci sono e quindi abbiamo tutto il sud che è in grave emergenza ma abbiamo anche i canili del nord che scoppiano e allora io credo che sia davvero giunto il momento di uscire dalle ambiguità e di chiarire che le adozioni possono riprendere io ho scritto al governo l'ho fatto anche con altre associazioni ho fatto anche un'interrogazione parlamentare su questo tema liberare le adozioni dei cani e dei gatti dal nord al sud liberare le staffette permetterci di nuovo di salvare questo esercito di randaggi perché alla fine proprio perché siamo in un momento di difficoltà bisogna pensare a loro perché nei momenti di difficoltà bisogna pensare a chi è più debole a chi più e chi più indifeso a chi veramente non ce la fa e i nostri randaggi soprattutto quelli del sud sono veramente gli ultimi tra gli ultimi e quindi io immagino e credo che voi siate d'accordo con me liberiamo le adozioni di cani e di gatti liberiamo le staffette facciamo magari anche riaprire le toilettature tutte quelle che sono le attività connesse alla gestione degli animali che non si capisce perché debbano stare chiusi quando i cittadini tante volte non sono in grado di occuparsi da soli dei loro animali pensiamo agli anziani no e allora entriamo veramente nell'ordine di idee che gli animali sono membri della famiglia svolgono un ruolo sociale e nel momento in cui ci si permette di poter riaprire qualcosa eccetera non si può ammettere le esigenze connesse ai nostri piccoli amici in fondo alla lista perché non è così lo è forse per membri del governo che evidentemente non si soffermano a riflettere o forse riflettono ma a modo loro o forse non riflettono proprio non lo so non lo voglio neanche sapere basta che si riconosca il ruolo sociale dei nostri animali e venga dato corso a tutto quello che è necessario per rendere meno difficile la vita dei loro proprietari purtroppo con questo governo io mi aspetto ben poco perché io ho depositato più di 50 proposte di legge per tutelare gli animali i loro diritti e manco per diavolo che ne hanno mandato avanti una no quindi tante tante parole ma poi fatti non seguono mai e questo è veramente una tristezza l'unica mia proposta di legge che aveva avviato il suo esame in commissione giustizia montescitorio è quella per inserire gli animali nello stato di famiglia con tutto quello che ne consegue ma poi si è arenata con il conte bis e io francamente adesso non credo proprio che questo governo potrà riservarci delle belle sorprese anzi e dopo di che voi sapete che io sono molto combattiva e quindi sono già tra legislatura che sto incollata al mio posto a portare avanti tutte le nostre tematiche tutte le nostre proposte di legge e me ne frego altamente di chi è come dire protagonista del benaltrismo no e mi scrive ma onorevole ma lei si preoccupa dei cani dei gatti quando c'è ben altro sì io mi preoccupo di tutti gli animali non dei cani dei gatti mi preoccupo dei diritti di ogni essere vivente ebbene sì e il benaltrismo con me non attacca perché allora c'è sempre ben altro di cui occuparsi no però amici questo vi volevo dire unitamente al fatto che stiamo lavorando per m49 questo povero orso papillon è stato ingiustamente catturato ma voi ma voi vi rendete conto la provincia di trento ne aveva già uccisi due perché aveva ucciso danizza un incidente l'avevano estetizzata hanno sbagliato la dose del narcotico certo può darsi sicuramente chi lo sa sta di fatto che hanno ucciso danizza che ha lasciato i suoi due cuccioli di cui ora non si è parlato più nessuno dice più nulla poi hanno ucciso sempre ugorossi capa già i due e questo l'hanno proprio fucilato perché voi vi ricordate l'hanno chiuso in una gabbia e poi gli hanno sparato hanno fatto un'esecuzione una fucilazione un idraulico settantenne in giro per i boschi con il suo cane aveva detto di essere stato aggredito da questo urso disturbato dal cane che però forse aveva i cuccioli e quant'altro poi ha ritrattato ha detto che no non era vero che l'ursola aveva aggredito ma insomma tanto valso che hanno fatto un'esecuzione in piena regola e voi mi chiedete me l'avete chiesto in questi giorni ma la provincia di Trento può fare questo in barba al ministero dell'ambiente e sì ahimè sì perché sono a statuto sono aree del paese a statuto speciale hanno normative diverse quindi per quanto l'orso sia tutelato a livello nazionale da tutta una serie di normative se il presidente della provincia di Trento grossi ritiene ha ritenuto allora di emanare un'ordinanza di cattura di abbattimento per la pericolosità dell'animale ebbene lui ha potuto farlo e qualunque tribunale gli ha dato ragione e ora allo stesso modo l'attuale presidente ha potuto decidere di catturare il povero papillon il povero papillon che secondo me gli stava moltissimo sulle scatole perché l'aveva beffato e io me lo immagino questo orsone meraviglioso che il 14 luglio dell'anno scorso pensate era stato catturato perché ma si diceva fosse pericoloso peccato che però non abbia mai fatto del male ad anima viva ha solo fatto l'orso ha fatto qualche danno ma di tipo economico e tutti i danni di tipo economico sono stati ampiamente ripagati a chi è stato danneggiato anche perché poi il bilancio della provincia di Trento per loro fortuna è un bilancio molto ricco e queste sono davvero 4 lire 4 soldi dopodiché come vi dicevo il povero kj il nostro povero ecco il mio ipad dice in diretta in pausa no non ho finito rifinisci resisti batteria vi stavo dicendo questo povero meraviglioso m49 soprannominato papillon bene ve lo immaginate è stato catturato il 14 luglio dell'anno scorso e l'hanno rinchiuso sembra Castellar lui ha scavalcato per riguadagnarsi la libertà ha 4 metri di recinzioni elettrificate ha sorpassato recinti ha fatto un'impresa che doveva valergli l'onore e il riconoscimento della libertà io non so se voi avete mai visto Spirit quella bellissima film di animazione che i miei bambini mi fanno vedere 2000 volte e se l'avete visto vi ricordate quando alla fine Spirit con l'indiano compie quel salto spettacolare grandioso dove ci voleva un grande coraggio pur di scappare bene il cattivo a quel punto davanti a quel salvo a quel salto gli riconosce l'onore e che si è guadagnato la libertà e lo lascia scappare così avrebbe dovuto essere anche per m49 invece no questo povero orso ha commesso il reato di avere il riso chi l'aveva catturato oppure di voler fare l'orso e così non hanno mai smesso di cercarlo e quando a fine marzo si è svegliato dal letargo invece di preoccuparsi del covid che forse forse è un'emergenza giusto un po' più stringente di un povero orso che va in giro a fare l'orso bene un dispiegamento di forze di mezzi di personale della forestale tutto per catturare questa povera creatura che sapete cosa ha fatto appena si è svegliato è andato a cercare un alveare ha fatto dei danni è vero in un'apicoltura è andato a cercarsi miele come fa Windy Pooh e diamine e poi ha svolto solo attività da orso ma ci sono quelle sue immagini bellissime che gioca nella neve che si rotola che è una creatura meravigliosa e vi sembra giusto che sia stato catturato? no guardate questa è veramente un'ingiustizia noi ci riserviamo di valutare ogni azione che potrà essere fatta contro questo atto e contro chi lo ha deciso anche perché la sua cattura e la sua detenzione perché è una galera a Castellar riteniamo sia incompatibile con le normative vigenti che quindi non rispetti la sua etologia e che quindi contempli un vero e proprio maltrattamento di animale sul quale la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente sicuramente non ha intenzione di girarsi dall'altra parte e nel frattempo vigileremo perché non gli sia torto un capello perché nessuno gli faccia dell'altro male e guardate amici io prego solo che quest'orso davvero non abbia intenzione visto che vedete gli animali poi si ricordano sono intelligenti e lui ha dimostrato di essere intelligentissimo è già riuscito a scappare una volta da questa prigione e pensate cosa può succedere se lui tentasse di rifare quello che già ha fatto e l'altra volta gli è andato bene non è morto per queste reti elettrificate non è rimasto infilzato a cancelli ma chissà se andrebbe bene una seconda volta e lui dopo aver assaporato 268 giorni di libertà forse vorrebbe tornare libero e chissà che non faccia di tutto per scappare e si faccia davvero molto male il ministro dell'ambiente ha detto che sta il ministro dell'ambiente che premetto ha subito anche lui questo atto che non condivideva ma come vi ho detto la provincia di Trento è autonoma in queste decisioni ebbene il ministro dell'ambiente ha detto che sta cercando per lui un posto in un bel parco europeo e quant'altro io mi auguro che questo avvenga in fretta perché l'orso non può abituarsi alla cattività deve ritornare libero subito nei boschi glielo dobbiamo e glielo dovrebbe anche il Trentino perché ricordatevi amici che questi orsi nel Trentino se li sono andati a prendere e a mettere perché c'è stato il programma di ripopolamento Life Ursus che elargiva generosi fondi europei a quale la regione Trentino ha voluto aderire e quindi si è presa i fondi europei tradotto i soldi e gli orsi per ripopolare e poi una politica miope e dottusa perché questi sono i termini più gentili che mi vengono in mente non è stata capace di garantire in tutti questi anni la convivenza tra questi orsi meravigliosi che si sono andati a cercare e le attività dell'uomo e la sua presenza e anzi coniugarli per metterli a sistema in un appeal turistico che certamente potrebbe giovare alla regione e in tutto il resto d'Europa e nel tutto il resto d'Italia gli orsi convivono beatamente con le persone e non ci sono queste guardate in Abruzzo quanti filmati di avvistamenti di orsi che si avvicinano ai centri abitati abbiamo e che cosa succede mai solo in Trentino quindi il Trentino è stato capace di aderire al progetto Life Ursus di prendersi i fondi europei e poi gli orsi due fatti fuori uno adesso sbolognato no, non è giusto non è giusto gli orsi non hanno l'avvocato gli orsi non hanno la famiglia che si costituisce parte civile o che tutela i loro interessi però hanno noi che vi assicuro faremo tutto quanto in nostro potere perché queste ingiustizie siano davvero sanate e colmate quindi un grande abbraccio a tutti voi io adesso ritorno al mio lavoro di Leida per emergenza Covid ho avuto come vi dicevo il piacere di fare una meravigliosa assemblea con tutti i nostri delegati sul territorio e ci siamo confrontati relazionati reciprocamente su tutti i casi che stiamo gestendo e trattando e noi abbiamo avuto voi sapete migliaia e migliaia di richieste di intervento abbiamo centinaia e centinaia di animali e di cui in un modo o nell'altro dobbiamo diciamo prenderci cura e governare le sorti e quindi è un grande lavoro e io voglio ringraziare di nuovo i meravigliosi volontari della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente per tutto quello che fanno e se volete andare sui miei social o su quelli di Leida o della coscienza degli animali potrete vedere direttamente con i vostri occhi questi video meravigliosi che riassumono solo alcune delle tante attività che noi stiamo facendo per essere al fianco dei cittadini in questo momento di emergenza sanitaria perché credo che sia il dovere di ognuno di noi e quindi un grosso bacio a presto e grazie sempre per essermi così vicini perché non è facile fare le battaglie animaliste fare le animaliste in questo paese e neanche farli a Roma come faccio io e quindi la vostra forza il vostro sostegno la vostra vicinanza sono per me di grandissimo sostegno di grandissimo valore e vi devo dire mi fanno sentire di non essere sola perché so di non essere sola e scusatemi se non riesco a rispondervi perché sono davvero centinaia 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 messaggi che mi scrivete ovunque io vorrei rispondervi solo che sono sempre impegnata per l'emergenza del covid per affrontare le situazioni allora o parlo al telefono e risolvo cose o scrivo sui social e quindi non abbiatemi a male non abbiatene a male se non vi rispondo e se magari oggi non ci occupiamo di tutto perché ora siamo towards l'AIDA per emergenza covid-19 vi saluto veramente perché se no non vi voglio più ma sono molto contenta di essere qui con voi e di vedere che interagite in questo nostro momento di confronto grazie a tutti amici grazie a tutti